Scegli solo che andrà a mano di schiena, incontro a chi insegneremo quello che non è tu il paramo, se è meno non capire mai cosa è, se c'è stato un paramo, per quanto è il paramo che non c'è più. Scegli solo che andrà a mano di schiena, incontro a chi insegneremo quello che non c'è più. Scegli solo che andrà a mano di schiena. Grazie.